Tutto pronto per la seconda edizione di Il Ciocco Bricks, l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati dei mattoncini Lego in programma nella tenuta del ciocco sabato 20 e domenica 21 giugno. A disposizione dei visitatori ci saranno decine di chili di mattoncini con i quali divertirsi a costruire, montare e smontare, ricostruire ogni tipo di opera architettonica a frutto della propria fantasia. E poi ancora una parete libera per creare mosaici di scritte o disegni, un'area set ufficiali dove si esporranno città, piste, fabbricati e poi un'area scambio per completare collezioni o iniziarne di nuove. Ma il programma delle due giornate prevede anche altre attività di intrattenimento per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.